Abbiamo una legge di stabilità in corso, abbiamo attività che si concluderanno appunto il 31-12, ma ci interessava oggi parlare anche un attimo di alcuni aspetti fiscali che sono allo studio e ragionare insieme per essere pronti a gennaio su quelle che sono le varie modifiche normative. Chiaro che i temi della manovra ancora non si conoscono, però alcuni aspetti sono ormai delineati. Quindi cedo volentieri la parola all'amica di sempre, di FIAIP, rappresentante del notariato, il notaio Maria Luisa Ceni. Prego. Grazie. Ringrazio dell'invito. Per me è sempre un piacere, oltre che un privilegio, partecipare a degli eventi FIAIP, dagli eventi tecnici formativi a questi eventi che hanno un respiro certamente più ampio. Allora, la legge di stabilità di quest'anno, sotto il profilo fiscale, non prevede per l'immobiliare, sotto il profilo delle imposte indirette in particolare, grandi novità. Avevamo temuto per un po' per le detrazioni nella maggior misura, per le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, per gli efficientamenti energetici nella maggior misura del 50% e del 65%, perché sappiamo che l'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi lo prevede già nella minor misura del 36%, ma quello pare, pare, uso pare, perché sapete che ancora entrano e escono emendamenti, ci resteranno per l'anno 2019. Quindi da un punto di vista fiscale direi che, allora sappiamo che il legislatore quando vuole intervenire su un settore, rilanciare un settore, ha tre leve da tirare. La leva fiscale, che è quella sempre più efficace. La leva finanziaria, che è quello di dire, ti do dei finanziamenti, dei contributi, che è efficace, ma meno di quella fiscale, e poi dopo la leva civilistica, cioè intervenire su determinati istituti che hanno dimostrato delle criticità. E questa può essere efficace o non efficace. Direi che quest'anno ha usato più che altro questa leva, quella di intervenire su istituti conosciuti, che effettivamente avevano creato e creano delle criticità, secondo il legislatore, ma anche secondo la pratica, nel settore immobiliare. Quindi io d'accordo con Paolo parlerei di questi due profili, cioè del decreto legislativo, che è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri in prima lettura, non si capisce bene esattamente cosa sia questa procedura anomala, ma vuol dire che si riservano qualche aggiustamento. L'otto di novembre scorso, quindi, ce lo troveremo in vigore, immagino gennaio, febbraio, più o meno, non è ancora in gasetta ufficiale, un provvedimento che la legge prevede che entri in vigore, entro 30 giorni a pubblicazione in gasetta ufficiale, è della norma, le norme che modificano il decreto legislativo 122, cioè le tutele apprestate dall'ordinamento per gli acquirenti di immobili in corso di costruzione. E questo direi che è il provvedimento normativo che incide in maniera maggiore sulla nostra attività. E poi c'è quest'altro emendamento che intresce dalla finanziaria, ultimamente era uscito dalla finanziaria e ha trovato, diciamo, il suo terreno normativo nel decreto legge sulle semplificazioni, quello che è stato esaminato, doveva essere esaminato ieri l'altro sera dalla Presidenza, dal Consiglio dei Ministri, sembra che sia stato esaminato ieri mattina, sulla modifica degli immobili di provenienza donativa. Sapete che quando abbiamo degli immobili di provenienza donativa, qualche problemino ce l'abbiamo tutti. Parto dal primo, se Paolo è d'accordo, parto dal primo, cioè le modifiche che sono state, sono state, qui possiamo dire sono state, apportate alla legge sulla tutela degli acquirenti di immobili in corso di costruzione. Voi sapete che la legge quadro che prevedeva questa modifica, quindi prevedeva l'emanazione di questi decreti legislativi, è la legge 155 del 2017, cioè quella che riforma le procedure fallimentari. A un certo punto l'articolo 12 di questa legge ci dice una cosa, che è importante leggerla da parte nostra come operatori, perché ci dobbiamo fare delle domande, ci dobbiamo fare delle domande e dare delle risposte, quando il legislatore ci dice queste cose. Il legislatore ci dice, al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polis assicurativa indennitaria. Ci dobbiamo fare delle domande, perché qui il legislatore ci fa capire quale responsabilità abbiano gli operatori nel regolare il mercato immobiliare. Evidentemente il legislatore, nell'osservazione che fa dell'applicazione pratica delle leggi, dal 2005 a oggi, ha capito che questa legge è stata inadempiuta. In parte, non dico in tutto, in parte forse è stata inadempiuta, perché se ci arriva addosso una cosa così, con un'apertura così, qualcosa vorrà ben dire. Allora che cosa succede? Succede che ci cala addosso con questa modifica normativa che importa delle variazioni importanti a questo decreto legislativo 122. Allora innanzitutto vi dico dove trovate queste modifiche normative. Dovete andare in questo decreto legislativo che reca il nuovo codice del fallimento. Andate agli articoli dal 384 al 387 e trovate queste modifiche. E che cosa ci dice il legislatore? Che cosa dobbiamo fare adesso che non dovevamo fare prima? Prima cosa, i preliminari di immobili in corso di costruzione potranno essere fatti solo dal notaio per atto pubblico e per scrittura privata autenticata. Quindi il legislatore ha deciso che siccome questi obblighi che aveva imposto con una legge del 2005 non sono stati adeguatamente adempiuti, ha previsto che cosa? Ha fatto una cosa che il legislatore fa spesso. Ha previsto una forma solenne con un obbligo di controllo. Non si è fermato lì però il legislatore. Se si fosse fermato lì sarebbe stato troppo facile. Ha previsto una serie di misure sostanziali aggiuntive che il notaio stesso deve controllare. Prima cosa, noi sapevamo che prima la fideiussione era rilasciata solamente a garanzia del trasferimento della proprietà. Voi sapete che questa fideiussione veniva data esclusivamente su contratti preparatori al trasferimento successivo dell'immobile. Cioè io ti anticipo delle somme, non riesco a comprare questo bene perché non è ancora pronto questo bene in base all'accordo fra le parti. Ti anticipo delle somme, tu mi dai la fideiussione, questo. Adesso il legislatore dice, per cui nel momento in cui io stipulavo il contratto definitivo di compravendita, restituivo la fideiussione, è finito là. Adesso la fideiussione è anche a garanzia del rilascio e della consegna al momento della vendita della polizia assicurativa indennitaria decennale. Quindi garantisce due cose. Garantisce il fatto che io nel momento in cui ti ho anticipato delle somme mi vedrò poi trasferito il bene che tu mi devi trasferire e che tu che mi devi trasferire quel bene per legge mi devi dare la polizia assicurativa indennitaria decennale e me la dai. Lo svincolo della fideiussione a che cosa è legato? Al fatto che al contratto definitivo di compravendita venga consegnata questa polizia assicurativa indennitaria decennale e il notaio ne faccia menzione nell'atto. Il notaio nell'atto deve scrivere che è stata consegnata questa polizia e che questa polizia è conforme a un modello ministeriale approvato. La legge prevede a presidio di questo sistema un'altra nullità. Noi sapevamo che il contratto preliminare dove non veniva consegnata fideiussione idonea era nullo. Era una di quelle nullità di protezione che sono tanto ben conosciute dal codice del consumo. Cioè era una di quelle nullità che era azionabile soltanto dalla parte diciamo debole, cioè dall'acquirente. Questo nel preliminare se io non consegnavo la fideiussione. La stessa cosa il legislatore la fa, modificando in questa parte la legge, nel definitivo. Non mi consegni la postuma decennale, il contratto è nullo. Il notaio deve menzionare nel contratto che mi hai consegnato la polizia assicurativa e che è conforme al modello per avere la fideiussione restituita. Altrimenti non ce l'avrò mai la fideiussione restituita. Guardate che qui il legislatore ha usato una tecnica furbissima. Perché che cosa ha fatto? Ha coinvolto l'interesse della parte venditrice, se ci pensate bene. Se non do la polizza. E non c'è scritto nel contratto. Il contratto è nullo, però vabbè il contratto è nullo, mi potrebbe interessare fino a un certo punto. Intanto ho un cassato. Eh ma non ti svincolano più la fideiussione. Se non c'è scritto là non ti svincolano più la fideiussione. Perché per legge la fideiussione può essere svincolata solamente sulla base dei presupposti che noi abbiamo detto. Quindi capite che è un meccanismo che diciamo si completa con una serie di adempimenti, una serie di menzioni. Attenzione, le menzioni in questa legge non sono loro che rendono nulla l'atto. È la mancata consegna della fideiussione o della postuma che rende nullo, che rende invalido il contratto. L'articolo 6 che sapete che è quello che dice quale contenuto deve avere il contratto e che è quello che ci dice che adesso il contratto preliminare può essere fatto solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ci dice anche che dobbiamo nel contratto preliminare menzionare la fideiussione e che è conforme al modello. Questa legge prevede anche, perché anche qui sapete che di fideiussioni ce n'erano di tutti i tipi, la giurisprudenza è impazzita e forse sia anche un po' stufata di andare dietro a queste cose, perché abbiamo sentenze della Corte di Cassazione che ha detto no, ma la fideiussione ha termine, ma va bene, ma non va bene, ma dipende il termine. Cioè anche qui, come devo dire, è una responsabilità degli operatori, perché ci voleva poco a dire dall'inizio guardate che queste fideiussioni che scadano a un termine fisso non vanno bene in base a questa legge, non vanno bene, perché la fideiussione deve cessare la sua efficacia solo nel momento in cui trasferisco la proprietà, adesso non è neanche più così, trasferisco la proprietà, consegno la pollizza, scrivo nell'atto che ho consegnato la pollizza, che la pollizza è conforme e consegno alla banca o l'assicurazione che mi ha dato la fideiussione l'atto notarile da cui risultano queste cose. Come è intervenuto il legislatore qui? Ha detto guardate che la fideiussione dovrà essere redata sulla base di un modello standard e la polizza assicurativa uguale, non ha proprio parlato di un modello standard, ma una cosa del genere. Teniamo conto di una cosa, ne teniamo conto per i finanziamenti. Nel momento in cui io faccio un atto pubblico, una scrittura privata autenticata, il notaio è obbligato a trascriverla. La trascrizione è obbligatoria, quindi la trascrizione si somma alla garanzia fideiussoria. Quindi trascrivo il preliminare ai sensi dell'articolo 2645 bis perché me lo dice 2671 del Codice Civile. Bisogna stare attenti che non si incepi il meccanismo della prestazione del credito. Perché? Perché siccome quest'articolo prevedeva quel famoso privilegio a favore del promissario acquirente, voi sapete che finché non si è pronunziata la Cassazione a sezioni unite, le banche con un preliminare trascritto anche dopo non ne volevano sapere. Finalmente la Corte di Cassazione ha detto guardate un privilegio trascrizionale, potevano capirlo anche senza la Cassazione. Per cui l'ipoteca fatta prima è buona, cioè il preliminare trascritto dopo non va a pregiudicare i diritti della banca per l'ipoteca trascritta prima. E questo ce l'abbiamo chiarito. Devo dire che anche qui le banche ancora oggi un po' di resistenza la fanno. Adesso lo dovranno capire bene, perché il costruttore o non vende più niente o altrimenti nel momento che vende, che avrà la fideiussione, le banche si devono rassegnare a avere queste trascrizioni di preliminari. Attenzione, successivi alla loro ipoteca. Perché se noi facciamo dei preliminari trascritti prima della concessione dell'ipoteca, quindi il costruttore dovrà andare a chiedere il finanziamento prima di vendere il primo immobile, perché altrimenti dopo no che la banca, il finanziamento con una garanzia ipotecaria iscritta dopo il preliminare effettivamente trova delle difficoltà. Ma trova delle difficoltà perché a questo punto la trascrizione del preliminare antecedente in base al regolamento, in base alla normativa, al funzionamento complessivo delle trascrizioni prevale sull'ipoteca. So che ho pochissimo tempo, quindi accenno brevissimamente alle donazioni. Però ti volevo... Scusa, sì sì. ...però fermare proprio su questo tema, no? Volevo coinvolgere l'UPD, che di banche se ne intende. La 122 è quella vecchia, diciamo, quella che va riformata, non ha funzionato semplicemente perché il costruttore chiedeva il finanziamento per il terreno, poi chiedeva il finanziamento per gli stati di avanzamento lavori e poi doveva rilasciare le fideiussioni. Le fideiussioni ammontavano alla somma del venduto, quindi compro il terreno, 500.000 euro, costruisco per un milione di euro, la banca mi finanzia per un milione e mezzo, lasciando perdere l'equity naturalmente, facciamo i conti un po' così, il totale delle vendite a summa a 2 milioni, quindi ho un budget di guadagno, diciamo, di 500.000 euro. Ma la banca, con la legge, doveva coprire costi per uno e mezzo più due, quindi della 122 non se ne è fatta niente. Oggi le banche hanno la possibilità di finanziare cambiato qualcosa, oppure i costruttori dovranno munirsi di tanto denaro che forse non hanno per far funzionare la norma? Allora, il problema è il rischio e quindi il costo del denaro. Oggi le banche non finanziano l'edilizia proprio perché c'è un rischio di invenduto molto forte. C'è stato un eccessivo ricorso al costruito, al nuovo, tanto che c'è ancora molto invenduto. Per cui il rischio che si assume la banca nel finanziare un imprenditore edile è molto alto. Per cui oggi noi riusciamo a finanziare le imprese edili, comunque gli imprenditori edili, coloro che costruiscono, gli immobiliaristi, chiamiamoli e no con questo nome, soltanto se possono dimostrare di aver già prevenduto il 70-80% degli immobili. Quindi sostanzialmente è quasi nullo il denaro riversato dalle banche in questo settore. Benissimo, questo ci conforta, non tanto. Presidente, le faccio la domanda che le fanno tutti gli associati che facevano a me, che faranno tutti. Ma cosa fa la FIAIP per questa roba qui? Le piace la domanda? Buon pomeriggio a tutti innanzitutto. Ma noi stiamo predisponendo un emendamento su questo con l'ufficio legislativo perché chiaramente il fatto di dover dare una fiduzione che ricomprenda non solo la caparra barra a conto ma anche tutti i pagamenti intermedi condiziona la libera contrattazione tra le parti. Perché chiaramente se c'è una difficoltà da parte degli istituti di credito di rilasciarlo a questa fiduzione per tutto questo ammontare è chiaro che va a condizionare quello che è appunto una libertà di poter come la legge salvaguarda di poter tra i privati tra soggetti che vogliono compravendere un immobile è chiaro che va a condizionarlo. Quindi su queste basi stiamo predisponendo un testo che preveda appunto che in realtà la fiduzione vada diciamo progressivamente richiesta e quindi erogata concessa alla parte acquirente. Questo è quello che ci impegniamo a fare e stiamo facendo. Con l'aiuto di Confedilizia? Fa proprio il moderatore oggi. Non me l'aspettavo. No, senza aiuto di Confedilizia FIAE fa tutto da sola. Però su questo tema noi ci siamo interessati dall'inizio volevo segnalare questo visto che ho la parola dai primi anni in effetti anche noi abbiamo appurato che la normativa è partita anzi è partita piano ma poi è andata ancora più piano forse noi avevamo fatto un servizio mi ricordo di informazioni per tentare di dare suggerimenti ai malcapitati perché spesso chiamavano non quelli che stavano questo è il problema per acquistare ma quelli che avevano acquistato avevano poi avuto diciamo problemi di vario tipo ma abbiamo visto che il meccanismo in effetti non funzionava speriamo che con le nuove regole che sono previste in questo decreto legislativo ci sarà qualcosa qualche miglioramento. Passiamo alle donazioni che sono un altro punto dolente. Su questo punto posso dire una cosa che mi ero tacciuta ma bisogna che lo adesso l'escursione della fideiussione della fideiussione ha un altro rischio questa norma prevede che la fideiussione possa essere scossa sulla base di una dichiarazione del notario se il giorno dell'atto non è arrivata una postuma decennale conforme al modello quindi questa fideiussione che garantisce il trasferimento della proprietà ma anche la consegna all'acquirente di una idonea assicurazione postuma decennale conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale dice che io posso escutere la fideiussione dalla data dell'attestazione che mi ha fatto il notaio che dice non è arrivata per il giorno della stipula una postuma decennale idonea e il compratore dice bene allora io non voglio comprare escuto teniamo conto che c'è questo elemento che è un elemento nuovissimo probabilmente andava andava detto mi ero taciuta appositamente per pudore per pudore guardate invece allora vi dico subito che questo emendamento entra esce fa le ultime notizie che mi è arrivato un sms prima di iniziare questo convegno sembra che il consiglio dei ministri di ieri mattina che l'ha esaminata l'abbia spunta momentaneamente per rimetterla nella finanziaria insomma adesso io vi dico che cosa abbiamo fra le mani adesso perché più di questo allora guardate come inizia questa legge questa legge al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa sapete che avere un bene di provenienza donativa un po' un problema è ma è un problema perché perché abbiamo ve la faccio breve ma uno ordinamento per cui io dono in questo momento siccome quando morirò uno sa come nasce ma non sa come ecco al momento della morte si vanno a fare i conti con tutti quelli che hanno dei diritti di legittima se salta fuori che con delle donazioni io ho leso dei diritti di legittima i legittimari possono fare l'azione di riduzione cioè dire adesso facciamo tutti i conti e vediamo se io ho avuto la mia quota di legittima dopo l'azione di riduzione possono dire sai cosa ti dico caro donatario e caro acquirente dal donatario che siccome i miei diritti di legittima sono lesi adesso tu mi ridai indietro l'immobile che io ti ho donato e me lo dai indietro libero dalle ipoteche che io ci ho messo sopra e beh insomma questo adesso ve l'ho semplificata al massimo scusatemi qui il libro secondo del codice civile è complicatissimo tant'è che io tremo sempre quando ci vado ci va sopra chiunque sia con le leggi nuove che con le interpretazioni perché al libro secondo bisognerebbe avvicinarci sì in ginocchio però quindi ho semplificata al massimo che cosa fa questa legge lascia ferma tutta la possibilità di fare questi conteggi però tramuta questa azione di restituzione cioè la possibilità di avere questo bene libero da ipoteche in un diritto di credito cioè sia le ipoteche che ci vanno a mettere sopra al bene donato i donatari sia quelle che ci vanno a mettere sopra gli acquirenti dei donatari non possono essere messe in dubbio dai legittimari quindi le ipoteche restano buone beh francamente se il bene è rimasto nelle mani del donatario l'erede può riprendersi indietro il bene pazienza che cosa me ne importa se ha avuto un finanziamento poi più di tanto fastidio non mi dà se è andato al terzo subacquirente l'erede non si può più prendere indietro il bene dal terzo subacquirente che avevamo un po' paura di questo però un problemino ci rimane sempre in questa legge nuova se rimane così come la vediamo che il terzo subacquirente non si vedrà mai cavato il bene e la banca non si vedrà mai mettere in discussione l'ipoteca che ha dato per finanziare l'acquirente dal donatario quindi questo è il risultato della stabilità però questa legge lascia aperto la possibilità del donatario di andare a chiedere dei soldi all'acquirente un diritto di credito per cui vi è aperta le assicurazioni da questo punto di vista però con un effetto di stabilizzazione che effettivamente c'è quindi questo sarebbe diciamo brevissimamente il panorama che viene diciamo verrebbe ad aprirsi dopo questa riforma se entra in vigore noi davamo un po' per scontato di averla in vigore l'1 di gennaio sembra che invece non sia così anche perché voi capite che se era nella finanziaria era un conto ma l'hanno inserito in un decreto legge cioè il fatto che potesse starci dentro un decreto legge stava nel capo sulle disposizioni urgenti in materia di giustizia probabilmente un qualche problema nell'iter parlamentare lo ha creato che è stato